Entrano in campo le squadre a Cagliari e Cagliari mina, il direttore di gara, prende il pallone, lo affida al bimbo che lo affianca per la gara dei rossoneri a Cagliari contro la squadra della Terra Sarda nella sesta giornata di campionato. Ancora Teo Hernandez che si accentra dalla palla TG Reinders, TG Reinders prova ad andare lui, prova ad andare lui, TG, il tiro! La palla sfiora il palo alla destra di Radunovic. Adli, Adli, limite dell'aria, Adli dentro, TG, il tiro, la parata! E qui bisognava fare gol, Okafor! Adli copre ancora Lugumbo ma perde palla il Milan, Lugumbo. Gol, gol del Cagliari con Lugumbo. Attenzione Adli, Reinders, Reinders è passata, Daica è passata, vediamo, è passato uno spillo, vediamo se riusciamo a fare dietro qualcosa di più importante. Polesic, Polesic in area di rigore, Polesic la mette in mezzo, Radunovic! Okafor! 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 Uno a uno! Uno a uno! Uno a uno! È passata la palla, è passata la palla di TG! Polesic a sinistra, Radunovic cede e le spinge, e Okafor la butta dentro. Ancora Teo, Teo dentro per Yasin, Yasin scarica di prima bella per Christian Polesic, Christian Polesic può puntare, ecco Polesic che mette in mezzo, allontana il Cagliari, Teo, 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 il tiro di Teo, Teo! E la palla esce! Alza il braccio Adli, semi lascia, Adli, Adli, Adli dentro, dentro, bella, TG, TG, tiro! Goal! Goal! Ha segnato Fichtomori! 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 che cerca il tiro il gol meraviglioso di Loftusic Loftusic il 3-1 rosso nero dritta per dritta una grande palla di Loftusic Oristanio contro Teo palla dentro rischia il Cagliari Ocafor la perde il Cagliari Ocafor Ocafor alta potevamo servire Cucuese ha cercato l'angolo Ocafor quel Cagliari riparte con il Tomori che deve andare a chiudere Tomori la porta via se l'allunga dannazione c'è Sportiello fuori dai pali attenzione a Lugumbo serie di errori serie di errori Lugumbo in aria Lugumbo la mette in mezzo attenzione si gira il Cagliari la grandissima parata di Sportiello la grandissima parata di Sportiello è finita la partita andiamo a 15 tre punti pesantissimi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti a tutti attenzione